Che avete da guardare? Siete solo una marica di coglioni. Sapete perché? Non avete il fegato per stare dove volete stare. Voi avete bisogno di certi poveri. Vi serve la gente come me, così potete puntare il vostro dito del cazzo e dire quello è un uomo cattivo. Beh? E dopo come vi sentite? Buono. Voi non siete buoni. Sapete solo una scontra. Solo di regurgia. Io non ce l'ho a questo problema. Io dico sempre la verità. Anche quando dico le bugie. Guardate, augurate la buonanotte al cattivo. Guardate. È l'ultima volta che lo vedete un cattivo come me, lo dico io. No? Fate lasciare un uomo cattivo. A te se sta arrivando il cattivo. maybe vi faccio la passione. A te la parte dove va lo è che è per l'an catua. No, sì. No, sì. No, no, no.